Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove ci sono due chilometri di coda per lavori tra Carrara e Sarzana, in direzione Genova. In A11, in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla FIPILI, un chilometro di coda per lavori tra Ponte d'Era Est e Montopoli-Valdarno, in direzione Firenze. Sempre per lavori, un chilometro di coda tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Est, in direzione Livorno. Code a tratti invece per il traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze e Scandici, in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!